È stata inaugurata nell'Aula Consiliare in Sassano la mostra fotografica Sassano Città della Musica, storie delle nostre tradizioni musicali centenarie. Una mostra fotografica organizzata dall'Associazione Progetto Musica e che racconta tanti anni di un connubio stupendo tra Sassano e la musica. È una cosa veramente eccellente, molto bella. Emo congratulo con il maestro Pindo e con Pierino Cusati che hanno saputo organizzare questa giornata importante che mette in evidenza le caratteristiche del nostro paese. Sassano è città della musica, Sassano ci sono tanti talenti, tanti anche giovani talenti e l'amministrazione ha l'obbligo di fare in modo che questi ragazzi vengano ben messi in evidenza. Cento anni fa nacque la banda, è stata portata avanti da diversi maestri, ne cito uno solo, il maestro Giovanni Ribbino, da noi conosciuto. Poi ce ne sono state tante altre, c'è un'orchestra di musica leggera che ha avuto 50 anni di attività, ha girato migliaia di località in 25 province d'Italia di ben sette regioni. E queste sono le regioni, poi ci sono dei professionisti che hanno prestato la loro opera. Poi d'accordo con il dottore Pierino decidemmo di portare avanti questo progetto del riconoscimento attraverso l'amministrazione dell'epoca del dottor Tommaso Pellegrino. Siamo qui per onorare la musica e tutti quelli che operano in questa bella arte. Sassano ha una rinomata tradizione musicale, basta pensare che in alcune famiglie c'erano e ancora ci sono due o tre musicisti che rappresentano appunto questa tradizione. L'idea ci è nata 11 anni fa esattamente per l'intitolazione Sassano città della musica. La musica rappresenta il tratto identitario importante, qui a Sassano devo dire sono tanti i musicisti, sono tanti i maestri, sono tanti i giovani che si sono avvicinati alla musica nel tempo. Sassano ha una tradizione importante dal punto di vista bandistico, ricordiamo le bande musicali, a cominciare dal maestro Rubino che è stato un po' il primo a portare avanti quelli che erano i valori della musica nei nostri territori. Poi è proseguita con tante grandi iniziative, qui mi fa piacere che sia il maestro Pinto che ha dato un po' vita all'orchestra Pinto, ha realizzato questa bella mostra fotografica, una mostra fotografica dove si ripercorre un po' la storia di tanti momenti particolari. La vita è fatta di ricordi, già domani ci sarà il ricordo di quello che abbiamo fatto oggi.